Alessandro Pellegrini, nient'altro che noi vi siete tatuati con Federica Pellegrini, che significa e come l'hai vissuto questo ultimo atto italiano dopo credo più di quasi 20 anni di moto insieme? Allora, nient'altro che noi è arrivato nel momento il cambio di Federica da Milano in poi, dove anche il nostro rapporto ha cambiato. E' cambiato tutto quanto, lei si avvicinava a casa, io che iniziavo a diventare ometto, senza dircelo, però è stata una cosa che è venuta fuori e che ci ha accompagnato da una vita. Io a tutte le gare, prima della gara metto, mettevo la manina sopra come per trasmettere qualcosa, sai quelle cose un pochino autotrimistiche che dici, però è un gesto scaramantico che ho fatto da una vita. Adesso l'ultima gare in Italia sembra veramente incredibile, dopo 20 anni di tensioni pre-gara, 20 anni di equilibri millimetrici da non scomporre, e adesso vediamo cosa succede. Lei dice che smette, magari arriva fino a Roma, non lo so, io sinceramente... Non ci credi più. No, più che altro ho sempre pensato che lei, per carità, la situazione dove ha fatto l'ultima gare in Italia adesso è bellissima, perché appunto ha un cambio di gare non indifferente, cioè quello che sta creando ISL secondo me è qualcosa di fantastico, perché oltre all'atleta però c'è anche una squadra dietro, mentre sulle classiche gare si guarda più all'atleta e basta, adesso c'è anche una questione di gara, di squadra, ed è una cosa bellissima secondo me, poi l'intrattenimento, però io spero sempre che faccia un ultimo decento a Roma, a casa sua, nella sua piscina. Senti Alessandro, se tuo papà non ruolo, quello che perdeva le scommesse e quindi doveva fare i regali a Federica, se la mamma è un po' la passione con la quale si confida, come nessun altro, che ruolo ha avuto Alessandro nell'aiutare a portare questa Federica a questo top? Io avevo quello che chiamano ai casini in casa, cioè proprio io per evitare magari che venga tirata fuori troppo attenzione o quant'altro ne combinavo qualcuna delle mie in modo tale che l'attenzione mi si un pochino deviata e poi comunque diciamo che la mia parte non l'ho mai ben capita anche perché cioè non sono uno che ha pensato devo fare qualcosa per Federica, per aiutarla. Per me bastava soltanto che gli equilibri ci possano perché dopo io in certe situazioni tendo a sdramatizzare di più e magari in una maniera più da zelig, mettiamola così. Questo sicuramente ha aiutato. Dopo appunto io non ho mai visto Federica come la Pellegrini, ma me la sono sempre vissuta come mia sorella, come Federica, quindi è stata una cosa diversa. Dopo logicamente sai che sta per fare un'Olimpiade, sai che sta per fare un mondiale, non so quanti mi hanno fatto l'Oripei, quindi cercavi sempre la Pellegrini e tutto quanto. So che però quest'anno con Tokyo è stata la prima volta che, visto che le gare erano di notte e quant'altro, io a lei gli mandavo tutte le notte le foto dei cani, gli dicevo guarda Fede che stanno benissimo e così, quindi questa situazione, i video stupidi di notte con Rocky che riusciva, c'è stato anche... C'è stato anche... C'è stato anche in su, glielo mandavo. L'ultimo, un ciotero non può non giudicare chi va insieme. Allora Matteo, come è entrato nella vita, soprattutto secondo te, adesso che succederà nella vita di te? Allora, diciamo che io ero una delle persone informate dei fatti fino all'inizio, forse addirittura il primo sui picchi guanti. Io se vedo Federica che è protetto, sta bene, ci credo. No, poi sta all'altra persona a dimostrarlo continuamente, no? Però il bello di loro e quando ancora la cosa era segretta io ho avuto modo di comunque viverli un pochino più da vicino. L'anno scorso io sono tornato da Londra e da Verona ho fatto due mesi e mezzo a casa con loro due. Cioè, proprio in casa, tranquilli e quant'altro, fuori, come entrava il discorso allenamento, si scendevano le figure, no? E questo è stato secondo me la cosa più importante per loro. Dopo, insomma, si spera sempre che sia la persona giusta per cosa bella. Sei pronto a diventare zio? Ma magari, non vedo l'ora. E quali sono i ricordi più belli che ti porti di tutta questa lunga carriera di Federica? No, ogni era il suo ricordo bello. Sicuramente adesso gli ultimi 200 stile olimpici di Federica sono stati... Un abbracciato dopo l'altro è stato un insieme di ricordi che venivano fuori. Ed è stato bellissimo. Mi ricordo che quella notte c'è stato uno scambio di messaggi in cui tu le hai detto Last Race. No, Last Dance. Last Dance. Last Dance. Un pochino ripercorrendo quello che ha fatto Michael Jordan. e sì, c'è stato questo scambio di messaggi, cosa che prima non succedeva mai perché io abbiamo il nostro rito a pregare, soprattutto alle competizioni così importanti, mi faccio trovare la letterina sopra il cuscino o qualcos'altro dove gli dicevo determinate cose. Questo giro qua invece non ci sono state lettere o quant'altro, però ogni giorno c'era qualcosa. Dopo ti ripeto, ogni anno ho avuto il suo perché, ho vissuto le gare in tantissime mani differenti. A Shanghai, la prima gara, i 200-400, c'era mia mamma con il telefono sotto al televisore, che non c'erano ancora le videochiamate, che ascoltavo la telecronaca perché io ero a lavoro. Quindi mi mettevo in pausa 5 minuti e mi ascoltavo la telecronaca così. A Roma è stato incredibile, cioè a Roma 2009 poi quando lei usciva a Bordovasca le sentivi non so quanta persona erano, 10.000 persone che le ricordavano, è stato incredibile. Pechino 2008, gara stupenda e tutto quanto. Faccio il turno di apertura al Florian quella mattina, arrivo, avevo già qualche collega fuori là che stavamo aspettando di aprire e inizia a urlare, è partita una festa in piazza San Marco alle 8 di mattina con i colleghi del Florian. Quindi ogni gara è il suo perché, ogni gara è il suo ricordo. È stato 20 anni incredibile. Tipo l'ultimo giro di Valentino Rossi a Catalunia nel 2009, no? È stato proprio 20 anni così, come se fosse sempre l'ultima perché dopo diceva sempre no, basta, non basta e alla fine tornava e quindi è sempre stato lungo. Adesso l'ultima è in Doven, Last Dance a In Doven, ci vediamo a In Doven. Ah, lo spero, devo sentire a lavoro, però spero di esserci. Spero. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.